Questa sera la Lavorale propone il Requiem Indominore dei Vici Terubini. Il grande è articolato in sette pezzi, Introvatus, Graduale, Diesie, Offertorium, Sanctus, Pire Jesu e Agnus Dei. Concluderemo con un Gloria, simbolo della Luce di Cristo che vince sulla morte. Il Gloria, il primo movimento dal Gloria, è che abbiamo pensato in questi 589 di Vivandi. Prima di lasciare la parola alla musica, la canale ci viene a ringraziare la Cia Contratenita, il priore dove erano tutti i confratelli, per la calorosa accoglienza. Un ringraziamento anche alla nostra coesistante di Taralcaccio per essersi resa tramite con la Cia Contratenita per la realizzazione di questo concetto. Un sentito grazie a voi tutti per essere intervenuti questa sera. A voi la parola di Sant'Oriere Tauro, accompagna al tuo apporte il maestro Lera Somma, dirige il maestro Roberto Attini. Buon aspetto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Amen. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.